ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua come ogni tanto accade con un altro episodio dei vostri video cioè le vostre collezioni di orologi che mi mandate tramite wetransfer.com no caricate il video sul portale poi mi mandate il link via email e io lo scarico no e quando ho un certo numero di video procediamo a guardarli tutti assieme cercate di fare video concisi tipo 7 minuti no ci sta anche 8 9 10 però devono essere pieni interessanti quindi io dico 7 minuti perché solitamente comprendono tutta una serie di pause è molto 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 bello molto 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 interessante quindi dopo un po no però insomma l'idea è questa detto questo noi vi mostro la rosa del giorno che oggi è questo stupendissimo rolex digest 41 nella sua versione acciaio e oro con il bracciale jubilee e la ghiera zigrinata in oro 18 carati calibro 3 2 3 5 l'ultimo di casa rolex col datario niente orologio bello che mi garba assai no dai diciamo che possiamo passare al primo video io dico di sì vai ciao davide mi chiamo ciao 32 anni un bacino anzitutto i complimenti per il canale grazie a mia collezione di orologi e in ordine cronologico più o meno perché parte da lontano fin da dalle elementari era attratto agli orologi e quindi conserva ancora degli orologi di allora questo è il primissimo un wille freres zeus cronografo colorato avevo forse 7 8 anni quando lo scelsi in gioielleria e mia madre me lo comprò bravo bravo qualche regalo della prima comunione un princeps cronografo al quarzo tutto in titanio leggerissimo in ottimo stato sono passati più di vent'anni però mi piace ancora lo porto poco ma lo consiglio si vede chiaramente gli stilemi degli anni 90 si vedono quelle bracciale così un po stile ebel un po stile anche tagoyer li faceva così no lo stile anni 90 è questo qua particolare questo è un quarzo è un quarzo ma è d'altro mondo andavano di moda quegli orologi lì e servo per ricordo altro regalo un braille tribe sempre al quarzo quadrante verde soleil nei contatori del quadrante carino conserva anche lui per ricordo ricordo primo orologio importante regalo del nonno paterno per la prima comunione un raymond whale in oro con cassa in oro in edizione limitata con cinturino in coccodrillo molto bello è un marchio che non si vede mai sul tuo canale però questo orologio mi piace molto bello si tutto d'oro poi mi tanta roba veniamo ad orologi di epoca più recente un timex al quarzo con funzionalità in diglo che si illumina che si retroillumina il quadrante al buio carino è un nome visto questo timex così quarzo al cronografo si vede se voi fate caso dove c'è l'enorme spazio che c'è tra i sottocontatori e il bordo del quadrante no probabilmente tutto tutto il calibrino è lì dentro in quel quel circoletto lì cosa che succede anche in altri orologi però è simpatico e poi simpatica soprattutto soprattutto la funzione in diglo che tu va ad illuminare il quadrante tramite una scarica di elettroni non c'è non è una lucina che illumina proprio che si attiva il quadrante è un bel sistema carino un regalo della della mia compagna poi poi casio gli shock in una configurazione che si vede poco in giro perché è un simil braccialato con bracciali in resina mentre di solito si vede un cinturino in gomma molto comodo versatile e carino è uno di quelli che imbroglia con il radiocontrollo dell'ora però è simpatico anche il pannello solare per la ricarica lo uso spesso soprattutto al mare meno male va poi poi ho uscito bellini troppo in questo troppo è un regalo per i miei trent'anni da parte i miei genitori che avevo detto io bello orologio mi piace lo porto spesso l'alterno con cinturino nato perché estate è molto il bracciale risulta molto pesante però veramente un orologio robusto che mi piace molto piace anche a me bravo ottima scelta vostro can fibia marino c'è la maglia milanese poche il suo originario non era affatto valido lo indosso ultimamente poco però lo conservo perché lo ritengo diciamo un orologio che arricchisce la collezione che è molto preciso fortunatamente sono capitato con un movimento molto preciso ma si poi emilton khaki film un classico gran bell'orologio molto versatile unica pecca l'anti riflesso è scadente o meglio è assente e quindi riflette un po troppo però se ti vedo comunque sia lo tengo in collezione mi piace molto sì ti vedevo nel vetro orologio regalatomi dalla mia compagna per la laurea vila ervetta bello questo mi piace maglia milanese riprende gli stile questo orologino qua l'ho sempre tenuto un po sott'occhio lì su amazon che c'era che non c'era 39 mm mi sembra nella versione nera è ancora più più carino è ora maglia milanese a me non è che mi sia dice tanto con un cinturino in pelle che va a rastremarsi verso la fibbia secondo me è la morte sua proprio un classico classico no maglia milanese in questo stile qua me lo me lo involgarisce diciamo no mi vintage un orologio a cui tengo molto secondo me molto bello lo alterno con un bracciale con un cinturino in pelle sempre originale morbidissimo di alta qualità quadrante finemente lavorato il bracciale molto morbido molto comodo molto mi piace molto molto poi poi proseguiamo con mauris l'acqua e ce l'abbiamo altro regalo della mia compagna cavole bravo la me l'ha acquistato quando siamo venuti al secondo watch meeting la gelleria pasquale domenici bravo ci è piaciuto molto e ha deciso di regalarmelo a me piace tantissimo forse all'orologio con di maggiore qualità che possiedo perché il bracciale bracciale movimento chiusura presentano delle finiture secondo me sopra al di sopra della sua categoria certo ma comunque a parte il rapporto qualità prezzo che è relativo personalmente mi piace molto e ne sono fiero e brava la tua ragazza che ti fai i regalori proseguiamo col mio tris di casse slim abbiamo seco gmt e i due skyx bravo 07 e 009 che ho molto penato per acquistarli a un prezzo ragionevole poiché in rete si trova un sacco di immondizie infatti nel percorso nella ricerca ho preso anche un sacco di fregatura alla fine li ho trovati in os a un prezzo di circa 370 euro ognuno mi sono accontentato ho smesso di cercare e li ho presi è fatto bene nuovi è fatto comunque sia secondo me l'ho fatto anche un discreto affare poi ultimo acquisto che bellino un quadrante con ciliegia top mi piace tantissimo il bracciale di una fattura più che pregevole quadrante molto particolare dimensioni adatta al mio polso che da 16 e mezzo barra 17 mi piace tantissimo molto elegante molto bello il king seco a me mi piace un casino questi king seco qua nuovi che hanno fatto uscire questo qua da 37 mm poi e mi piace l'ho anche recensito però forse a 37 un attimino un attimino piccolo per me sono usciti quelli a 39 che non ci ho ancora messo le mani sopra perlomeno adesso in questo momento in cui state vedendo sto registrando il video e poi ora recentemente sono usciti da 38.3 no quelli da 38.3 però hanno il bracciale che va a finire contro la cassa nei finali che non non mi piacciono per niente quindi rimangono in gioco quello da 37 e quelli da 39 e a 38 non mi piacciono strano ma non mi piacciono poi vediamo il seco e mi piacerebbe avere un king seco a me è proprio bello proprio bello al vintage questo è un regalo che mia madre fece a mio padre un seco di forma probabilmente risalente se non sbaglio agli anni 80 quando erano fidanzati a però molto sottile l'ho fatto revisionare è stato molto complicato per per via di problematiche sui rubini però insomma adesso funziona regolarmente e che cosa è manuale cos'è poi veniamo ai lasciti del nonno materno questo un universale geneve cavoli presenta una leggera fioritura sul quadrante comunque l'ho fatto revisionare e anche stesso funzionare una bella cassa che bella cassa che c'è questo invece è un anonimo con cassa in oro tutto interamente originale e presenta anche un bracciale che adesso sostituito ma totalmente a maglia milanese anch'essa in oro mi piace molto lo stile molto fine poi il valore affettivo è elevato è un classico lo stile come ce ne sono dei due orologi del nonno che non c'è più spia sono due quarsi un festina e un lorenz anch'essi li ho fatti sistemare ripulire e sostituire la batteria adesso non l'indosso però sono un bel ricordo anche loro ma certo poi omega un falso dell'epoca purtroppo ecco sempre appartenuto al nonno che sempre creduto che fosse originale però lo conservo perché rappresenta un ricordo del nonno però non lo indosso si vede questo invece boom è un mondia che bello bracciale integrato attualmente non è funzionante dovrei farlo revisionare per il momento sta bene lì quando vorrò magari ci spenderò due soldi per la revisione per il momento va bene così va bene così ti ringrazio davide per lo spazio che deciderai di pubblicare il video ma si capire cosa ne pensi della mia collezione del mio percorso e buon proseguimento ciao 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 e cosa ne penso è una bella collezione di orologi è proprio viene spontaneo dal cuore una bella collezione perché c'è orologi moderni e anche fatti bene il king's cycle l'icon ora non mi vengono mentre gli altri tutti belli una serie di vintage che hanno che tutto il loro senso no e lasciti chiaramente da famiglia alcuni sono quarzo ma sono pur sempre ricordi lasciti e poi hanno un valore no anche i quarzo c'erano il loro piccolo valore del periodo di quando sono stati presi comprati con il collocamento nel tempo a veda ci siamo capiti comunque bella collezione promosso 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 prossimo buonasera davide sono guido da viareggio viareggio devo farti i miei complimenti o ecco qua un altro simpaticone con la tovaglia la la saga della tovaglia continua qua siamo dei pesci stilizzati dai viareggio mare pesci stilizzati ci stanno dai non so più cosa dire competenza per la sua eloquenza e la sua simpatia grazie passiamo in rassegna la mia piccola con le collezioni di orologi vai o rogi partiamo dai diver questo lo conosce anche tu il mio compagno di avventure nel mare io sono un sub e ci faccio farci non sa quante immersioni conosciuto ma è questo è chiaro è bravo bene bene un altro diver questo una marca francese beccia lo acquista in corsica ora non so che che meccanismo abbia e ho guardato sul fondello non ho indagato a fondo però in 500 metri insomma anche con questo ci ho fatto diverse immersioni l'umitec l'oggetto questo è un tudor acquistato nei primi anni 90 un prince date no questo non lo scusa sto ripensando all'umitec ma l'umitec non è anche quell'orologio che aveva preso il mio amico piero un micro brand ciecoslovacco se non sbaglio o svedese boh non lo so c'è sito l'umitec sul quadrante vabbè torniamo questo tudor princett usato per fare immersioni bello è molto simile a rolex come cassa credo non so che movimento abbia in retta questo è un altro sono 28 24 delle oi i cronografi speed master dopo risale ai primi anni 90 moon watch certo qui la corona e se pulsanti sono allineati e non disassati forse che questo ecco a proposito ti volevo chiedere un consiglio a me su questo ora a parte lo vedi così ma la lancetta dei minuti e la parte sinistra del dial le freccettine non si illuminano più e ti volevo chiedere se ne valga la pena rimandarlo all omega per fargli una revisione per fargli mettere a posto no assolutamente no cioè mi meraviglio di te che non sei conoscenza di questo fatto qua questo qua è uno speed master con gli con gli indici diciamo al trizio il materiale luminescente utilizzato da questo orologio è il trizio si vede anche della scrittina t swiss made t che è sotto ore 6 vuol dire trizio e il trizio adesso è illegale ma illegale per i soliti motivi no per eccesso di zello non è che è tossico pericoloso nocivo radioattivo è semplicemente che è sorpassa quella soglia di tolleranza che le leggi attuali hanno sempre di più abbassato quindi non è più consentito è illegale il trizio e va ad esaurirsi diventano giallini gli indici perché si va ad esaurire il trizio vira però per contro non illumina più ti dici che sta cominciando alcuni punti a non illuminare più se tu lo mandi in assistenza ufficiale ovunque essa sia loro sono obbligati a cambiarti il quadrante perché gli indici al trizio sono fuori legge quindi loro lo prendono probabilmente si bardano anche perché no ci avranno delle regole ben precise se c'è il trizio guanti mascherina quando invece non succede niente lo prendono lo macerano lo buttano via te ti mettono un quadrante nuovo di pacca e il tuo orologio perde completamente il valore ma non solo il valore economico ma poi il valore storico per quello che è l'orologio per cosa rappresenta quindi a mio parere lasciano così lasciano così va scomparendo tutto diventano tutti gialli poi quadrante invecchi anche lui e c'è un orologio vintage come si deve poi un altro sempre un altro bello per master non professional in questo caso questo dovrebbe essere una versione rivo e revival degli anni del 1957 bello che questo però su in questo caso anche questo di prima nel 94 95 e anche questo questo non presenta questo qua perché questo qua c'è superluminova sul quadrante c'è superluminova luminova quel tempo di magari su un tipo di problema si si illumina al buio si illumina tutto non l'ho mai fatto revisionare ma ho guardato ma va bene poi un bretting sempre diver superoceano questo non mi ricordo l'anno d'acquisto ma dovrebbe essere a metà degli anni 90 e anche su questo c'è un problema come vedi la ghiera gira in entrambe le direzioni invece per un diver professionale dovrebbe girare soltanto verso la sinistra e anche qui ti chiedo se non sia il caso di rimandarlo alla casa affinché gli facciano una revisione completa ma ascolta se vuoi un service completo completo cioè dalla z come a volte può succedere io voglio voglio l'orologio che mi torni come nuovo come uscito dalla fabbrica to tieni bretting fammelo un po come quant'è è uguale lo voglio nuovo come se fosse uscito dalla fabbrica allora va bene ha senso se invece il tuo problema è semplicemente quello lì della ghiera che va in due direzioni che poi non so se di nascita era unidirezionale negli anni 90 quello lì non lo so poteva anche però ho visto che a volte si blocca a volte no quindi è unidirezionale io andrei da un qualsiasi orologiaio professionista insomma un signor orologiaio è non da primo che capita e basta basta far saltare la ghiera sistemare la molletta mettercene un'altra e ripristini la funzionalità della ghiera girevole unidirezionale senza bisogno di mandarlo in the ass of the world come si dice no dipende cosa vuoi fare vuoi fare service completo ok già che ci sei per quello tol fan se non vuoi fare service completo c'è sempre la possibilità di portarlo a far perché era stupidata poi poi vintage vintage questo è stato diciamo uno zenith tutto d'oro bello carica manuale bello non so che tipo di momento ci sia è stato un regalo del mio mentore che adesso non c'è più che me l'ha donato tanti anni fa bravo non so che anno risalga ma io mi ricordo me lo donò negli anni 80 una fra di genere non è originale zenith l'ho cambiato e questo questo funziona regolare ma questo non l'ho mai fatto revisionare bravo e poi poi una sciofeca alert devo prendere e questo è stato un regalo di mia moglie ma perché ci avete in testa che vanno date così a cavolo di merenda è un citizen ecodrive un orologio di tutto rispetto che tra l'altro anch'io ecodrive da everino tra virgolette 100 metri figurati il mio c'ha la ghiera come questo qua però non gira è fissa cioè allora sarebbe una sciofeca anche il mio no no è un bel citizen ecodrive fatto così a gigetto di cavallo questo qua è un bell'orologio dai ecodrive non ci capisce nulla di orologio ma non ci capisco poco anch'io ma lei poi ancora meno di me a lei quando vedo l'orologio è attratta dall'estetica dal colore dalle forme e forno e quindi mi ha convinto a prenderlo bravo e niente e niente da la mia collezione ti ringrazio grazie a tutti gli amici del canale a presto a presto tutti i belli orologi e si è beccato anche qualche bel top quello zenit lì tutto oro con la testa oro molto bello non dici dici che non sai cosa c'è dentro lo dici che non sai di che anno è che tra recato negli anni 80 chiaramente non è degli anni 80 è di prima degli anni 80 ma lì basterebbe ho visto quando hai girato il fondello c'è un numerino se ti leggi quel numerino lì no te lo scrivi poi lo vai a cercare su sulla tabella su google lo trovi la tabella degli anni di zenit e ti dice precisamente l'anno nel quale è stato costruito commercializzato suo più o meno il periodo pro è quello no per il resto nulla da dire degli orologi per gli orologi e soprattutto quei due omega lo speed master in o moon watch e lo speed master in o bro darro è belli 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 mi piacciono tanto ma passiamo video vai ciao davide mi chiamo vico 26 anni vengo da milano e ti faccio fare un breve vi viaggio nella mia collezione di orologi vai il primo da cui sono partito è il seiko 5 blu non serve di scrivere molto bello affidabile indistruttibile e forse lo uso per qualsiasi cosa ed è sempre lì pronto ci piace poi poi un altro orologio che non ho visto tanto ammetto ma probabilmente anche per per come fatto è questo amilton che è un mio secondo acquisto fondamentalmente questo amilton lloyd dovrebbe essere il il modello mamma mia niente mai trovato particolari informazioni su questo forse proprio per le sue linee diciamo che osano un po non ha avuto un grandissimo successo è meno ma piace sta bene al polso è preciso preciso da goditelo poi qua un altro amilton khaki anche lui molto preciso fa il suo facendo tranquillo e anche abbastanza elegante con questo centurino nero comunque si può mettere in varie occasioni perché c'è anche un lato elegante ma certo cacchi fila meccanico dopo periodo intenso di lavoro durante la pandemia mi faccio questo regalo che mi do ocean star che secondo me è un bello orologio e voglia alla fine fa il suo 80 ore di riserva di carica fatto bene a me piace l'ho usato tanto me lo sono vissuto e niente mi piace ha detto che fa il suo poi incuriosito dalle caratteristiche di questo video compro un vostac bravo che ha le stesse caratteristiche mi son detto vista la differenza di prestito di listino voglio vedere cosa può fare un orologio che costa un decimo listino che ha le stesse caratteristiche e a parte il cambio data che è insopportabile alla fine è anche un vostro che può dire la sua ero affascinato un po dagli orologi russi e questo vabbè l'ho preso simpatico niente di che però fa il suo 200 di profondità fa il suo anche lui fa il suo e simpatico anche lui dopo di che questo tisso prx anche lui 80 ore di riserva di carica a me piace molto l'estetica perché secondo me è molto elegante molto bello riprende le linee di un modello del passato si sa ed è secondo me anche lui un bello orologio elegante che può fare la sua bella figura fai su poi spostandoci un po nel passato partiamo da questo che è un orologio che io ho trovato è un portex che funziona carino l'ho comprato perché mio nonno aveva un portex che non sono riuscito a far sistemare che ho trovato tra i suoi averi quindi ho comprato questo per celebrarlo omaggiare quell'orologio che non sono riuscito a mettere a posto anche carino è come orologio un altro acquisto vintage è questo piccolo omega molto carino che è imbarazzantemente il più preciso orologio che ho nonostante palesemente abbia la sua età questo scritto omega adesso mi manca il dato ma penso risalga agli anni 40 50 è molto carino molto sottile molto preciso ci ho messo un cinturino carino e è imbarazzante perché è precisissimo ora l'orario è sbagliato però è perché non lo indosso spesso anche se non ce lo dicevi come facciamo a sapere che ora è invece il nonno della mia ragazza mi ha dato in gestione questo longin a diapason ultronic tecnologia interessante per quanto mi riguarda ce l'ho anche io con bracciale originale che ce l'ho anche io uguale mi piace molto uguale bracciale adesso dovrò farlo sistemare perché anche cambiando la batteria purtroppo non funziona ma è comunque un bell'orologio che ricorda qualcosa che è durato poco ma c'è stato ma sempre incuriosito questa allora ti hai detto che cambiando la batteria non funziona il problema degli orologi al diapason solitamente è proprio la batteria che ci vuole una batteria particolare precisa ora non sono un tecnico quindi non so mi sembra che in origine fosse quella al mercurio e ora bisogna mettercene una che sia insomma non una batteria a caso che faccia le veci di quella originale e dovrebbe esserci no c'è anche io un ultronic così cioè con il calibro al diapason a batteria e nel caso dovesse succedere qualcosa insomma si va un pochino a tentoni no e questo però vale per tanti per tanti orologi per tanti meccanismi no spesso succede che si trova un problema ad un orologio vintage e bisogna tribolare per trovare dei pezzi di ricambio delle parti di ricambio a volte non si trovano chi sa metterci le mani chi non sa metterci le mani è uguale cioè la stessa cosa come oggi tanti si lamentano della situazione attuale no eh ma un giorno io come farò a far riparare questo quello quell'altro la storia si ripete non è che quello che è successo finora non è da tenere in considerazione hanno fatto calibri orologi tipologie che oggi è difficile se sistemare bisogna impegnarsi bisogna trovare l'orologiaio che ha voglia di sbattersi trovare il pezzo di ricambio usato da un contatto che aveva oppure no così è ora e così sarà un domani capito quindi è inutile non acquistare non possedere orologi per la paura che un domani non ci sia il pezzo di ricambio perché è sempre successo e sempre succederà tecnologia del diapason continuo nel vintage e prima faccio vedere un orologio di cui sono molto fiero che è questo lanco bello perché è del mio bisnonno addirittura adesso ho i dati da qualche parte ma non mi ricordo questo simbolo di lanco a che anni eh c'è la tabella in che anni si faceva comunque ne sono molto fiero perché l'ho fatto lucidare l'ho fatto revisionare ho fatto un po' di interventi appunto ed estetica è molto bello per quanto mi riguarda e appunto essendo stato del mio bisnonno che non ho conosciuto così come i miei nonni mi fa sentire parte un po' di questa storia yes lanco e continuando invece negli orologi dei nonni che ho preso in gestione revisionato c'è questo cronometro swiss bello che è un orologio molto bello molto fai su veramente molto bello molto elegante è preciso è cassa in oro l'ho fatto revisionare lo tengo molto bene è un orologio a cui appunto sono legato e mi ricorda un po' il passato della mia famiglia ho nonni che non ho conosciuto ma gestisco i loro orologi e li ho fatti sistemare tutti e due quelli che erano i cronografi del mio nonno materno bello e anche questo è stato revisionato è stato messo a posto sempre in oro un po' come negli anni 50 e 60 sono cromati sono palaccati e niente questa era la mia collezione spero ti sia piaciuta e niente il tuo canale vi piace molto continuo così perché è veramente interessante bravo ciao 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 ora non so i due cronografi finali che hai fatto io ora veda qua così mi sembrava che quando è girato il fondello fosse in acciaio o in metallo non oro quindi sono placati quei due lì non sono in oro massiccio da quello che ho visto qua poi magari come al solito il riflesso lì me l'ha fatto vedere chiaro invece è scuro non lo so allora quello vi veniva in mente poi per il resto bravo dai c'è poco da dire cosa c'avevi di simpatico non mi ricordo più nemmeno fai un po' vedere sì tutta una serie di orologi vintage molto carini il prx di tesso moderno è un classico che va benissimo il mido ocean star per l'amor del cielo nulla da dire poi hai preso il vostro per fare la comparazione occhio al vostro che potrebbe fare la ruggine intorno al canotto della della corona però la differenza c'è per forza dai un vostro con un mido anche solamente la qualità degli acciai del calibro c'è la differenza viva viva gli orologi i vostri economicini che costavano 50 60 euro di più però la differenza c'è dai prossimo ciao Davide ciao sono Renato D'Alecco ti presento la mia piccola collezione un po' variegata complimentissimi per il canale continuiamo così e non perdiamo tempo allora il primo che ti faccio vedere è questo Lorenz modello a capulco questo orologio l'ho acquistato ultimamente esattamente come l'orologio di prima gli stilemi degli anni 90 cioè addirittura è lo stesso orologio di prima boh non lo so bracciale simile solo perché negli anni 90 era un orologio che andava molto a fine anni 90 un bracciale tipo ebel comodissimo comodissimo tisso bello questo tisso è un modello di 8 diametro 43 è un 100 metri niente l'ho preso velocissimamente non li considero orologi ma strumenti da lavoro G-Shock questo qua è un modello gulfman perché lo considero macchina da lavoro io per anni ho fatto salvataggio nautico come unità cinofila e devo dirti che questa tipologia d'orologio è l'ideale questo e il suo ricambio è quest'altro modello decisamente più grande questo è un GDX 6009 1R è un diametro 54 mamma mia velocissimamente due rimasugli del passato che ho tenuto solo per affezione Braille Manta e Sektod Expander Speed 202 allora automatici Slava contrariamente alla Mast decisi anni e anni fa di non prendere un Vostok ma di provare con un altro marchio questo è un Slava automatico diametro 38 e mezzo movimento Slava dei date 24 e 27 dunque con la rimessa rapida della data con questo bottoncino brutto tanto per avere un orologio sovietico dopodiché Romer Romer questo Romer modello Junior dunque è un modello un attimino lo faccio vedere bene il quadrante è un ristampato si nota sono anche stati ritriziati parecchio male questo orologino l'ho trovato mercatino a inizio anni 90 al prezzo di un pacchetto di sigarette aveva il plexi rotto mancava la corona era proprio cominciato da buttare via è un diametro 33 quasi borsile 3 della Romer carica manuale logicamente orologio anni databili tra fine anni 50 inizio 60 Nordstel Nordstel dunque una delle famose case Maison svizzere che è morte a causa della crisi del quarzo questo orologio è un carica manuale diametro quasi un 37 un 36 e mezzo abbondante placato oro tutto bianco così un orologio placato oro dunque fondello acciaio ma l'orologio è un placato oro è veramente veramente bello io questo lo trovai a metà anni 90 NOS dunque presso un orologiaio che sta chiudendo è originale così mamma mia un orologio che a me piace molto veglia Swiss allora anche questo ho trovato NOS nei felici anni 90 bravo allora orologio con quadrante in madre perla placato oro anche questo con una bellissima lavorazione della cassa eh sì guarda lì è veramente veramente non so se si nota stupenda questa lavorazione bello è in condizioni eccelse dunque veramente un orologio fantastico sì come dress watch un diametro a 33 il nord il di prima come ho detto un 37 scarso questo Z è una storia un po' particolare perché comunque è un orologio che proviene dalla mia famiglia la mia nonno e diametro 36 movimento Peseux 7001 la referenza di questo orologino che è comunque un orologio anni 70 dunque con gli stilemi di quegli anni perché è un inizio del 70 si vede è un orologio veramente bello al polso perché è estremamente sottile e mio nonno lo acquisto ma non lo non l'utilizzo mai mio nonno era del 1912 dunque io ho avuto la fortuna di goderlo fino a quasi cent'anni questo orologio come vedete tutto originale Zenith tutto venne acquistato da lui ma lo utilizzò forse due volte mamma mia che belle storie altro Zenith sempre di provenienza della mia famiglia sempre di mio onno che era amante del marchio questo è un surf questo è un anni 60 comunque diametro 33 allora surf in realtà non esiste il modello surf con quella scritta lì che è sul fondello non è mai stata sul quadrante si intende un particolare di solito è surf stainless steel e certe certe fonti dicono che significa surface stainless steel superficie in acciaio inox quindi non è un modello infatti è riportata su diversi tipi di orologio che non hanno nulla a che fare uno con l'altro e poi non può essere anni 60 questo orologio qua non può essere anni 60 perché quel logo che vedi lì sul quadrante è stato adottato dal 1970 al 2000 poi poteva cercare cercare logo Zenith corona perché dico così perché solitamente la corona è quel dettaglio quel particolare quell'elemento quel componente che spesso viene sostituito quindi se ne mette una senza niente non originale quando uno vuole ripristinare l'originalità va a cercare quale sia quella coeva qua il termine giusto per quel orologio lì e c'è proprio una tabella che dice che questo logo qua va dal 70 al 2000 quindi negli anni 60 non è un po' magari no negli anni 60 non è manuale dovrebbe montare questo orologino il calibro 25 70 ecco lì surf stainless steel superficie in acciaio inox non è un modello t5 72 un buon orologio senza infamia senza lode i tempi però era una macchina del tempo che non ha mai mai dato noi in tutti gli anni che l'ha avuto mio nonno ma c'è come ti ho detto io ho la passione dei davier passiamo a qualcosa di molto più recente e qualcosa che conosciamo tutti dunque glycine combat sub il classico diametro 42 che è quello che andava per la maggiore e a mio avviso è ancora uno dei più belli sì 42 è uno è ancora uno dei più belli 42 mm in un diver così ci stanno e questa configurazione qua è quella che mi piace di più senza avere quelle sfere mercedes con il circoletto vuoto che sembra che manca qualcosa sfere così a matita semplici quadrante con i numeri che pm 12 14 13 così mi piace bello orologio questo qua promossissimo orologio che comunque conosciamo che vale tutti i soldi che costa super super approvato passiamo ad un altro diver che tu conosci bene come un movimento qua siamo un promaster promaster eccolo qua è negli 0107 l'85L questa è la famosa edizione limitata super titanio mille pezzi per il mercato italia dunque anche questo parliamo di un orologio del diametro da 42 mm che conosciamo tutti certo bellissimo orologio l'ultimo acquisto un fatto di diver mosso da curiosità foibos foibos questo è il narval dunque orologio da 41 di diametro sempre automatico questo monta un bellissimo miota 90-15 è un 300 metri questo orologio quadrante graffiato con la particolarità di queste tonalità graffiate color antracite bello sto orologio sto orologio qua è bello mi piace l'ho sempre visto narval mi piace mi piace anche quella la graffiatura sul quadrante non è non sembra neppure a volte ci sono certi quadranti che hanno una lavorazione a carta che è plasticosa che si vede che è posticcia no in questo caso invece è naturale mi piace vetro zaffero doppia cupola adesso io ce l'ho montato con un tropic ecco vi faccio vedere la particolarità del dial se si vede si vede si vede bello io l'ho montato con un tropic ma vi garantisco se si va a vedere nei canali di vendita fuibos che il loro bracciale è qualcosa di fenomenale ma veramente fenomenale qua vediamo la loro bella incisione orologio che per quello che costa non ha nulla ma veramente nulla da invidiare a marchi iperblasonati questo orologio per me è un valore incredibile perché è l'orologio che ha acquistato mio padre nel 71 quando sono nato io c'è il vetro sfaccettato questo Citizen diametro 36,5 un automatico con il movimento GN45 la referenza 61,08,95 fondella vite un orologio anni 70 è un orologio a mio avviso stupendo un colore del dire che è ipnotico un azzurro bello veramente veramente bello era conciato in condizioni assurde perché mio padre comunque operaio meccanico l'ha utilizzato per anni senza risparmiarlo ed era completamente disintegrato dunque ho provveduto a farlo ripristinare con una leggerissima lucidatura ma leggerissima anche se qualcosina sulle ansie è stato portato via la sostituzione del vetro uno dei famosi vetri sfaccettati che si usavano allora questo è un originale Citizen che anche questo richiede guarda lì bello parecchio sbattimento per trovarlo ultimo ma non ultimo il pezzo che forse ritengo un attimino più importante della mia collezione non è sempre del mio anno di nascita so che i top non si danno o difficilmente si danno ai vintage questo secondo me è un orologio incredibile Eberhard Scafograf Super 500 top dunque questo è un orologio è un 71 orologio che ha fatto la storia perché erano gli anni dove le grandi Maison rincorrevano la performance riguardo alle doti tecniche specifiche degli orologi dunque capacità l'immersione eccetera questo movimento Eberhard 232 123 automatico è su base AS1687 è un orologione perché è un diametro 44 visto che originariamente questo orologio che ho recuperato facendo una fatica incredibile originariamente questo orologio montava un bracciale Guy Freires dunque purtroppo quando l'ho ritirato io montavo un bracciale Eberhard in pelle con deployante conciato da buttar via il bracciale originale Guy Freires esiste in commercio lo si trova però a prezzi veramente proibitivi sono a livello dell'assurdo guardate quel cavaluccio marino è stupendo stupendo al che ho provveduto a trovare un bracciale RK di quegli anni dunque questo qua era l'antagonista dei Tropic Swiss Made vedete da 19 di Ansa dunque non è facilissimo è un bracciale RK ecco ci tenevo a proporteli perché questo Citizen che ti ho fatto vedere prima e questo Eberhard forse sul canale non li abbiamo mai visti e dunque ci tenevo a far vedere qualcosina di nuovo ecco niente spero ti sia piaciuta Davide ti faccio ancora tantissimi auguroni per il tuo canale grazie e alla prossima ciao ciao alla prossima e grazie per la condivisione beh gli orologi interessanti talmente tanti che non mi ricordo più nemmeno di cosa stavamo parlando questo Eberhard qua alla fine molto bello mi piace Scafograf lo Scafograf vedete il nome da dove da dove nasce le radici del nome Scafograf hai detto che era un periodo nel quale si rincorrevano le prestazioni ma si rincorrono anche adesso e magari in altre sfaccettature ci sono poi sono molto legate al marketing come lo erano allora ad esempio non ci sono non ha fatto Omega l'orologio che va in immersione non so quanti mila metri alto così l'ho fatto anche Rolex ci sono ci sono poi la ricerca delle prestazioni nella cronometria il sistema Spirit di Omega no ci sono ci sono le rincorse le prestazioni in ambiti diversi ma ci sono anche oggi e oggi anche molto è legato al marketing a farlo percepire a spiegarlo agli utenti a coloro che stanno guardando comunque bella collezione e ti ringraziamo per aver condiviso questi orologi molto molto simpatici ciao Davide ciao sono Andrea da Parma Andrea ti volevo fare vedere la mia collezione è un anno che ho iniziato è una piccola collezione ma volevo fartela vedere la vedo già bella bella la vedo già facciamo subito con le belle ciofeche ecco fatto ti faccio vedere perché hanno tutti e due una storia particolare metti a fuoco dagli fuoco in pratica sono in legno perché questo è stato il mio primo orologio mi ha regalato la mia moglie io ridò questo qua mi ha regalato il mio datore di lavoro dopo una campagna natalizia un po' importante ma sei sfigato la moglie il datore di lavoro che ti regalano cioè questi eh ma ci boh loro non ne sanno molto di orologeria quindi hanno cercato qualcosa che potesse piacere secondo loro io mi piace la montagna mi piace il legno mi piace la guarda del legno per loro era un acquisto quindi un regalo importante così è allora per l'amor di cielo ridiro tutto cioè hanno anche pensato cosa potevano regalarti e visto la tua attitudine verso il lavoro del legno ti hanno regalato degli orologi in legno cioè dal loro punto di vista non fa una grinza hanno fatto bene colpa tua che non gli hai fatto capire che sì il legno è bello lo lavoro ma gli orologi li preferisco ad acciaio capito è colpa tua non li darò mai via passiamo poi agli orologi automatici vai partendo ovviamente pro master applicano tutti il pro master con cui ci faccio i viaggi quest'anno siamo in scozia ci vado in egitto ci sali sopra ci fai i viaggi e giardinaggio ci fai i viaggi ha detto bravo poi passiamo al bellonjin vintage questo è stato un acquisto che ho fatto un mercatino dell'antiquariato l'ho trovato a un buon prezzo mi piace la forma placato oro carica manuale mi piace ci devo cambiare il cinturino perché questo bassissima qualità però ci sta bene metterlo ogni tanto un bel orologio di forma ci vuole io non ce l'ho sempre sul vintage quest'anno siamo andati in ferie in slovenia e a lubiana c'era il mercatino delle pulci slavo e ho trovato questo vostro a prezzo stracciato in condizioni bellissime cassa che a me piace particolare un bracciale bellissimo e mi piaceva l'ho portato via dalla slovenia all'italia dopo di che esisteva ho preso questo è stato il mio primissimo in realtà automatico questo è Hamilton Jetmaster 42 allora orologio secondo me bellissimo ma tornarsi indietro non lo comprerei perché ha un polso come vedi invisibile questo è un 40 mm tutto bianco molto bello molto elegante ma sul mio polso forse eccessivo non so non sento molto il mio agio però bellissimo poi bianco l'ho preso così risalta ancora di più dopo di che il mio ultimo acquisto Baltic non so se a te piace ma a me fa impazzire bello bello è questo Baltic acquascaff bracciale chicchi di riso automatico ci piace non lo so qualità percepita altissima al di là del movimento che monta colore bellissimo riflessi pazzeschi e contentissimo è bello 39 mm da dio mi trovo forse nero era meglio penultimo penultimo questo Eberhard Champion chronograph 38 mm di diametro crassa automatico contatori reverse 77,50 questo ruolo a me fa impazzire bello dimmi cosa ne pensi se ti piace eccetera io metto sempre volentieri ma ho capito che diametro è e godo quando c'è il polso bravo ultimo orologio e più importante l'onjin secondo me è questo l'onjin l'onjin carica manuale questo orologio qua apparteneva al nonno di mia moglie che l'ha regalato al figlio quindi al papà al padre che poi dopo lui ha deciso di regalarlo a me e quindi ha un valore questo infinito tramandato non sarà mai la mia collezione lo metto spesso sempre in ansia per non rovinarlo però per me è fantastico sarà un 30L penso di sì niente dimmi cosa ne pensi grazie mille e alla prossima alla prossima cosa ne penso allora diciamo che il più bello di quelli lì è l'Eberhard l'Eberhard è sicuramente l'orologio che vorrei anch'io non ho capito che diametro è ma vedere i subcontatori molto vicini al bordo quadrante io presumo sia un 38 39 bello mi piace cronografo Eberhard reverse panda così promossissimo bello anche il promaster è un classico il promasterino è un classico di tutti i tempi ormai poi bellini anche vintage soprattutto quelli non gilì che secondo me è un 30L a me mi piace ok però quell'aspetto lì è proprio quello classico quello visto rivisto ci sono centinaia di migliaia se io dovessi è un lascito tramandato per l'amor del cielo capitasse anche a me sarei più contento del mondo se invece però dovesse andare a scegliere per comprarlo probabilmente quell'aspetto lì è quello che magari salterei poi magari invece va a finire che lo compro lo sto dicendo così in senso generale perché è visto rivisto come aspettano magari dentro c'è il 30L c'è il 30L un po' con un aspetto un po' originale sempre quello lì visto rivisto quelle anse che si staccano così quadrante però tutti belli dai sei promosso sei promosso parmigiano amico parmigiano sei promosso ciao Davide sono Roberto da Milano inizio subito a farti vedere la mia collezione di quarzoni comprati in adolescenza bravo allora abbiamo questo tisso prs200 mamma mia un bel guardate come si vede la placatura veramente brutta non so nemmeno se placatura se pvd è brutto però giallo così cioè l'oro vero è un'altra roba hai capito cosa voglio dire o si prende l'acciaio l'orologio o d'oro ma placato si fa una fatica poi ce li ho anch'io placati perché se c'è un motivo dietro è un longine con il calibro elettrico l'ho trovato placato non mi interessa non è che lo devo indossare tutti i giorni è lì in collezione a rappresentarmi quel periodo di longine in cui facevano gli orologi elettrici è lì però comprare un orologio poi così full un'orazione in finto oro color finto oro ovviamente poi inizia anche a scolorirsi quindi proprio un po' un'inculata purtroppo ce l'avevo prima in colorazione argento che poi successivamente da bravo tamarro ho venduto purtroppo e mi sono comprato questa qua colore oro di cui mi son pentito adesso e non l'indosso più poi un Tissot classic dream sempre in colorazione finto oro il bracciale ovviamente un altro quarzone devo dire le forme sono molto belle a parer mio però questo finto oro non lo digerisco più diciamo che più da ragazzino ecco qua poi a questo ci sono più affezionato un fossil perché era di mio nonno me l'ha regalato lui sarebbe anche bello sto qua quando era ancora in vita è bello veramente un bel quadrante però è sempre un quarzone comunque a batteria a batteria perché ci sono molto affezionato ma certo a batteria fin garda poi abbiamo questo braille tempo che trova comunque era ancora un bel ha un bel design a parer mio sì 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 bellino questo inguardabile non l'ho mai messo però ce l'ho infatti a scarico è inguardabile questo Citizen di cui sono molto affezionato ah no scusa Seiko non l'ho indosso perché è rotto infatti visto non sapevo manco la marca però ci sono affezionato e non lo darò mai via perché era di mio nonno ma questo qua è uno dei primi Seiko cronografi penso che c'è anche un calibro abbastanza interessante al quarzo non è che lo devi sminuire lo devi tenere suo perché era di tuo nonno ha un suo valore storico se non mi sbaglio dell'altro mio nonno questo bruttissimo uguale Braille mai messo però ce l'ho poi da febbraio ho iniziato diciamo ad appassionarmi un po' di più agli orologi il primo che ho preso si però torniamo al discorso di prima hai messo quel bel secchino lì in mezzo a tutti questi orologiaci vabbè toglielo e metto inanzi tra questi qua è questo automatico finalmente secco scinto molto bello ho recensito anche io ho trovato a metterli in nato solo che non mi trovo molto comodo col nato perché mi piace anche tenere l'orologio sotto la doccia infatti questo lo metto in ogni occasione ma come sotto la doccia sto qua no sotto la doccia per l'amor del cielo poi se sei fortunato vai avanti che non gli succede niente perché grazie a ricevuta ma sei molto a rischio è un orologio che c'ha 5 atmosfere forse sì di impermeabilità ma poi sotto la doccia il fatto che l'acqua bollente basta poco per poi creare la condensa all'interno lo sbalzo di temperatura evitiamo di fare la doccia con gli orologi in generale io a volte l'ho fatta ma magari tiepida lo sai che è tiepida oppure la doccia fredda non è un problema non è un problema della doccia è il calore che dà fastidio lo sbalzo termico questo 6,5 qua non è fatto né per andare in acqua né per farci la doccia calda tanto meno poi sapone le guarnizioni insomma boh non lo tolgo mai bellissimo bellissimo certo successivamente ho comprato un tisso le loc che ho venduto purtroppo e successivamente un philip watch che ho venduto per fortuna direi per poi acquistarmi questo omega vintage degli anni 50 tutto d'oro 18 carati con carica manuale ha un calibro monta il calibro 266 se non sbaglio e dovrebbe essere di manifattura bello ringrazio e ah chiudiamo in bellezza con l'orologio dei miei sogni che purtroppo è una patacca però mi auguro di acquistarlo un giorno ma no grazie davide ciao ma gli orologi falsi anche non fateli nemmeno vedere cioè nemmeno tenerli no è un po' è un pochino come 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 sminuirsi hai capito cioè a parte che sminuirsi più di così cioè è mostrato all'inizio un minutaggio quasi infinito di orologi dimenticabili no non dico che sono ciuffecche ma sono dimenticabili il tissù tutto tutto placcato oro quegli albrello br 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 dimenticabili cioè e via bello bello l'unico che si salva non ho visti altri che si salvano vabbè sechino ma l'omega carica manuale 18 carati quello lì lo vedi lo vedi proprio l'oro lo senti l'oro lo percepisci che è oro vero rispetto alla placatura il pvd tutto che vuoi te però poi quello l'omega lì ora io non lo so lo dico la sparo perché può essere anche non vero non prendetela per buona ma ho visto che la scritta omega e il logo omega erano abbastanza attaccati no con la ad omega tagliata così si magari c'erano forse però mi ha messo un po' di dubbio niente 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 non voglio dire niente però solamente che a volte pensare male se azzecca però secondo me è originale boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video e il presentatore e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love